Sfrutta il principio dell'elettricità fisica e lo applica a diagnosi e cura di allergie e intolleranze alimentari e la mora terapia tecnica figlia dell'elettroagopuntura secondo il tedesco Foll. Nessun farmaco né omeopatico né alleopatico, ma un'apparecchiatura che riequilibra i campi elettromagnetici nel nostro corpo. A Lecce ne ha spiegato uso e applicazioni il medico omeopata Michele Vania. L'elettroagopuntura ha il vantaggio che oltre a usare i campi elettromagnetici invece degli aghi per modificare il campo elettromagnetico del corpo, permette anche di testare i farmaci, quindi entra nella medicina della biorisonanza dove si può misurare il campo elettromagnetico della persona. L'apparecchio compara il campo elettromagnetico del prodotto inserito nel circuito e si vede se c'è una risonanza. Nel momento in cui c'è una risonanza tutti i meridiani si equilibrano, allora l'operatore sa di certo che il prodotto è idoneo per la persona. L'aggiustamento delle frequenze elettromagnetiche innesca meccanismi fisiologici di autodifesa e autoguerigione. È così possibile modulare correttamente la terapia e soprattutto calibrare la dieta sulle effettive esigenze del paziente.